Salve gente, allora, allora, come promesso ecco il video dove andiamo un po' ad analizzare quello che può essere il rush finale delle squadre per quanto riguarda la Corsa Champions e ovviamente a cascata tutte le altre posizioni prima però che tu stai vedendo questo video, come sempre, se ancora l'avessi fatto, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per rimanere aggiornato tutti i contenuti, un like prima di abbandonare il video, ti ringrazio e NostraFamo76 per Instagram, se c'è Instagram puoi seguirmi allora, non perdiamo altro tempo, andiamo subito ad analizzare quella che è la situazione attuale prima della prossima giornata, ovvero la 34esima e niente, vi metto una schermata in modo che così potete seguire quello che vado a leggere allora, abbiamo la situazione attuale, vede il Bologna a 62, questo sulla schermata ovviamente non c'è, è solo per sapere dove è posizionato il Bologna dopodiché segue la Roma a 58, l'Atalanta a 54, la Lazio a 52 e il Napoli a 49 adesso, ovviamente da tenere in considerazione il fattore molto importante che l'Atalanta, rispetto a tutte le altre, ha una partita in più da recuperare contro la Fiorentina e la deve giocare in casa questa partita abbiamo già visto in Coppa Italia un po' quanto l'Atalanta possa essere pericolosa per la Fiorentina non è detto che si debba per forza avere lo stesso risultato, però è indicativo il risultato dei Coppa Italia c'è anche da dire però che l'Atalanta ragazzi si sta giocando insomma una parte importante della stagione tra finale di Coppa Italia e soprattutto semifinale di Europa League io penso che l'Atalanta è sicuramente concentrata a portare a casa un trofeo e penso sia giusto così comunque, prossima giornata vediamo come la Roma continua ad avere un calendario complicato nelle prossime giornate a quanto meno nelle prossime tre perché abbiamo una Roma che affronterà, a questo punto andiamo a vederle tutte un Napoli fuori casa, una Juventus in casa e un Atalanta fuori casa e va a chiudere con il Genova e l'Empoli una in casa e una fuori casa l'Empoli fuori casa l'Atalanta invece avrebbe l'Empoli che la Roma nell'ultima giornata la vede nella prossima quindi un Empoli in casa poi vede una Salernitana fuori casa in trasferta la partita con la Roma in casa il Lecce fuori casa e chiude con il Torino in casa la Lazio invece sembrerebbe quella che ha il calendario leggermente più morbido con un Verona in casa, un Monza fuori casa un Empoli in casa un Inter già vincitrice da qualche settimana quindi con fiumi di champagne nel corpo fuori casa e un Sassuolo a chiudere in casa un Sassuolo che potenzialmente o si sta giocando l'ultima chance per la Serie B o potrebbe essere già salvo adesso vediamo quando arriveremo lì a che punto sarà chiudiamo con il Napoli che gioca con la Roma la prossima in casa poi avrà l'Udinese fuori casa il Bologna in casa la Fiorentina fuori casa e il Lecce in casa vediamo che anche il Napoli non ha un calendario semplice e già ha diversi punti di ritardo rispetto le altre quindi un Napoli clamorosamente dietro rispetto a quello che ha fatto lo scorso anno sembrano due squadre completamente diverse quando in realtà i giocatori quelli sono e qui si vede anche l'importanza di un allenatore ci sono allenatori che riescono a mettere seriamente la propria impronta in una stagione e altri no che il Napoli è evidente cioè quello che ha fatto Spalletti si è voluto la società l'ha voluto quasi si è voluta quasi prendere il merito di questa vittoria quando vediamo che in realtà il merito quasi al di là dei giocatori è soprattutto dell'allenatore ed è chiaro per quello che poi è successo successivamente al Napoli che fa fatica probabilmente farà fatica addirittura a entrare in Europa League questo perché farà fatica ragazzi? perché il Catario parla chiaro cioè lo vedete e abbiamo un... se volete vi dico anche il Bologna non è scritto ma il Bologna affronterà l'Udinese in casa il Torino fuori casa il Napoli fuori casa la Juventus in casa e il Genova fuori casa adesso non partite semplici perché non sono semplici però ha comunque un margine e un tesoretto da gestire anche se non arrivasse quarta potrebbe comunque cadere facilmente al quinto posto poi comunque l'entusiasmo e il Bologna attuale mi sembra che onestamente le dovrebbe portare questa conquista storica della Champions al Bologna se la meriterebbe anche cosa succede però? che secondo me ragazzi adesso guardatevi voi il calendario però secondo me il calendario attualmente più difficile è la Roma ma la Roma ha conquistato due punti importantissimi ieri ad Udine due punti che potrebbero veramente fare la differenza a questa stagione due punti veramente pesanti per cercare di trottare fino all'ultimo per un posto Champions proprio perché il calendario non è assolutamente semplice io vi invito però a guardare la 36esima giornata ragazzi quella penso che sia lo spartiacque finale cioè ci sono degli scontri con Napoli-Bologna Roma che affronta l'Atalanta e voglio dire la Lazio a quel punto affronterà l'Empoli parlo adesso essendo un canale naziale cioè Verona-Monza-Empoli se tu fai bene come si è visto fino adesso ci metti quell'impegno, quella grinta, quella voglia e riesce a fare tre risultati poi si potrebbe fare interessante la situazione cioè le altre ripeto Napoli-Roma-Udinese-Bologna l'Atalanta ripeto forse l'Atalanta ve l'ho anche detto in un altro video io l'Atalanta vedo che il quinto posto per me se lo prende l'Atalanta alla fine però è pur vero che gli impegni di Europa League come del resto ha anche la Roma gli impegni di Europa League e anche di Coppa Italia potrebbero magari perché la Coppa Italia adesso non so se l'ultima si gioca penso prima della fine del campionato quindi sicuramente si metterà in mezzo a questa situazione tant'è che non si sa neanche quando recupererà la Fiorentina la partita con la Fiorentina però ecco noi parliamo di un'Atalanta a 54 punti però potenzialmente potrebbe averne 55-57 insomma al peggio parte da 54 ma potrebbe avere qualche punto in più e ripeto è lì con la Roma si fa dura proprio grazie a questi due punti della Roma è un testa a testa finale molto interessante e ripeto la Lazio se fa il suo calcolando che la partita più difficile almeno sulla carta è quella con l'Inter a Milano di un Inter che però non ha nulla più da dire in questo campionato con giocatori probabilmente con la testa già in ferie e ripeto con ettolitri di alcol ormai bevuto nelle settimane precedenti a questo incontro ma magari diciamo che quella grinta in più la Lazio potrebbe non dico vincere però potrebbe uscire con un risultato positivo da Milano ripeto è tutto da giocare a me mi sembra molto interessante questo rush finale Roma-Atalanta su tutti ovviamente con 58 e 54 ma l'Atalanta una partita in più da recuperare mi sembrano quelle più lanciate per il quinto posto il Bologna ha un buon tesoretto ha partite non facili però ripeto per il quarto e quinto posto se la giocano queste tre la Lazio sta lì se la Lazio fa il suo e dovessero cadere più mosche del previsto magari la Lazio fa il colpaccio però ripeto se la Roma non avesse avuto quei due punti non fosse riuscita a prendere quei due punti a Udine probabilmente sarebbe stata più entusiasmante questa rincorsa così come adesso vedo ripeto una corsa a tre per il quinto posto è una Lazio che forse gioca un po' più sul tranquillo visto anche il calendario del Napoli per quanto riguarda l'Europa League non penso ci siano sorprese ripeto penso per quanto mi riguarda che l'Atalanta potrebbe arrivare fino in fondo però sicuramente le partite extra campionato peseranno come Macigni va bene allora ragazzi io non ho nient'altro da dire aspetto vostri commenti dopo che avete visto questo quello che sono le partite del finale campionato ditemi la vostra avete visto che ci sono squadre che hanno sicuramente delle partite molto più toste ci sono scontri diretti i punti sono ancora diversi comunque sono 15 punti non sono pochi c'è chi ha già un margine di vantaggio qual è secondo voi chi è la quinta quarta, quinta, sesta, settima e chi arriverà fuori dall'Europa che conta diciamo tra Europa League e Champions ripeto per quello che abbiamo visto sembrerebbe il Napoli però mai dire mai comunque ci sono ripeto degli scontri diretti che potrebbero ribaltare il risultato in caso chiediamo a Borghese se va tutto bene o vuole ribaltare tutti i risultati e decretare lui il vincitore di questa corsa Champions ragazzi ci vediamo presto con un prossimo video e ripeto aspetti i vostri commenti un prossimo video un prossimo video